L'ultimo consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha segnato un cambio di passo importante per la concessione di finanziamenti e di patrocini da parte dell'ente. Con una modifica al regolamento, il Parco Nazionale finanzierà e concederà il proprio patrocinio e i contributi soltanto per le iniziative che si dichiareranno plastic free. In coerenza con il percorso intrapreso, finora abbiamo deliberato di non concedere il nostro patrocinio a chi non rispetta l'ambiente, lo dichiara il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino. È abitudine frequente l'utilizzo di materiale di plastica per la somministrazione di alimenti e bevande durante eventi e manifestazioni ricadenti nell'area di competenza dell'ente. Dobbiamo rendere concreto il concetto di Parco plastic free ovunque sia visibile il nostro parco. Da questo momento il cambio di rotta è attivo e chi richiederà il patrocinio o i contributi dovrà tenersi a questa buona pratica eliminando la plastica dai propri eventi. L'ente dunque chiederà una sottoscrizione autocertificata in cui si dichiara che l'evento in questione è plastic free con controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per i trasgressori ci sarà il decadimento del finanziamento o del patrocinio concesso. Il provvedimento va nella direzione di contribuire a tutelare lo straordinario patrimonio ambientale di cui è ricco il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.